Officina Reporter è un progetto sulla fotografia che da tempo lo stiamo organizzando, ma è un anno di lavoro. Abbiamo scelto Salerno, ci piace, siamo fan di Salerno e quindi abbiamo scelto Santa Sofia, il complesso monumentale di Santa Sofia, dove esporremo nella chiesa primo piano, secondo piano e terzo piano. Che significa Officina Reporter? È un progetto di laboratorio per 43 giovani, i 43 giovani sono tutorati da 12 professionisti e gli hanno fatto lavorare su tutta la campagna, quindi sono usciti 43 progetti individuali. Quindi è molto importante che un giovane, 20-25 anni, fino a 30 anni, vabbè ancora giovane 30 anni, io sono un po' di un'altra generazione, ma bisogna avviarli al processo dello studio fotografico e quindi noi ci interessiamo di fotogiornalismo. Però i 12 fotografi che hanno fatto i tutor sono completamente diversi tra di loro, quindi c'è moda, street life, reportage, inchiesta, quindi c'è tutta la materia del fotogiornalismo, ma intanto c'è tutta la materia della fotografia. Poi ci sono 12 fotografi internazionali, stiamo parlando di La Magnum, quindi della grandiosa agenzia di Bresson e ci sono degli ospiti che arriveranno da Milano, da Parigi, dall'America, arriva l'Ina Pallotta dagli Stati Uniti, quindi abbiamo un grande parterre però. Tutto questo che significa? Che noi abbiamo fatto una scommessa, devo dire, grazie comunque agli amici che ci hanno sopportato, diciamo, moltissimi della provincia di Salerno, di Napoli, è veramente una grande scommessa perché stiamo veramente lavorando da tanto. Il nostro impegno è promuovere i giovani sulla fotografia, ma come si promuovono i giovani sulla fotografia? Bisogna avviarli in un... questo è un mestiere, cioè noi non siamo artisti, noi abbiamo il dovere di entrare nelle case in punte dei piedi e quindi la questione dell'informazione è una questione etica che noi ci teniamo tanto e vogliamo iniziare con 43 giovani campani. Grazie.